Massimo Bitonci, il Movimento 5 Stelle continua la lotta contro il reato di migrazione clandestina. Lei come risponde? Noi faremo una posizione molto dura. Abbiamo già cominciato questa mattina con interventi quasi di mezz'ora per ogni senatore. Anch'io sono intervenuto su questo argomento. È una vergogna che sia stato cancellato con un emendamento del Movimento 5 Stelle il reato di migrazione clandestina che sia stato cancellato perché hanno deciso di fare questa consultazione in rete al cui hanno partecipato alcune migliaia di aderenti al loro movimento però in realtà non sono le persone che li hanno votati. Un voto che loro hanno ottenuto, una presenza in Parlamento anche parlando del mantenimento del reato di migrazione clandestina e dopo qui al Senato come la Camera fanno l'esatto contrario. Io penso sia un grave errore. Noi continueremo a fare opposizione. Abbiamo chiesto stamattina sostegno anche da parte degli altri gruppi. Il gruppo di Forza Italia è della nostra stessa idea quindi ci sono affiancati a noi. Hanno firmato il nostro emendamento che ripristina il reato di migrazione clandestina. e lo faranno convintamente. Noi facciamo tutto quello che possiamo per ostacolare questa vergogna che creerà dei grossi problemi al Paese. Sono migliaia di persone che stanno arrivando, che continuano ad arrivare nelle nostre coste. Se non abbiamo almeno questa possibilità di contrastarli con il reato di migrazione clandestina io penso che sarà un vero disastro. Un Movimento 5 Stelle quindi che si delinea sempre di più vicino agli ideali di sinistra? Ma oramai in tutti i loro provvedimenti sono allineati, affiancati al centro-sinistra in maniera estremamente demagogica perché non si rendono conto che chi li ha votati li ha votati anche, come nel caso specifico, non per scarcerare i delinquenti ma forse come vuole la Lega per costruire nuovi carceri e per trovare delle soluzioni alternative come abbiamo proposto noi per esempio che gli stranieri che sono detenuti presso i nostri carceri i nostri carceri vadano a fare la loro pena, a scontare la loro pena nel Paese d'origine. Però questo governo non ci sente e invece di portare avanti accordi internazionali va avanti in questa sceglierata linea e questi provvedimenti, ce n'è uno anche alla Camera molto similare, un vero e proprio indulto, sono più provvedimenti che vanno tutti nella stessa direzione cioè di far uscire i delinquenti, delinquenti veri, non esiste una micro criminalità ma esiste solo una criminalità dalle carceri e per noi questo è un gravissimo errore.